Fano ha appena perso 20 milioni di euro, un investimento che era atteso da tanto tempo e chissà quando potremmo rivedere. Tutto questo per l'inedia del sindaco, la pressapocchezza amministrativa dei suoi assessori e la litigiosità della sua maggioranza. Tutto questo per noi è inaccettabile. Invece di chiedersi come e perché e di assumersi le responsabilità, il sindaco continua a cercare colpevoli altrove. E' incolpando i cittadini che giustamente si sono fatti domande, incolpando la minoranza che ha fatto il suo ruolo. E quindi al sindaco vogliamo chiedere, è il momento che si assuma le responsabilità oppure no? Vogliamo continuare con questo triatrino o vogliamo finirla per il bene di Fano il più presto possibile? Per questo chiediamo al sindaco e alla sua giunta di dimettersi e di dare alla città di Fano la possibilità di scegliere di essere amministrata da persone competenti. Oggi perde Fano, perde 20 milioni e la cosa ancora maggiormente più grave è il fatto di ascoltare le parole anche proprio stamattina alla radio del sindaco laddove si minimizza nessuna responsabilità in capo all'attuale giunta. Le polemiche importanti e i contrasti che vengono anche all'interno della propria maggioranza vengono appunto minimizzati come il gioco delle parti, come qualcosa che è di tutta normalità e pertanto ci fanno effettivamente una città litigiosa. Questo è veramente inaccettabile, intollerabile e assistiamo effettivamente a una perdita importante, progetti importanti laddove anche la regione attraverso l'assessorato competente ha dato sempre la massima disponibilità a considerare e valutare assolutamente l'impiego di queste somme. Per cui sicuramente c'è un atto dovuto di responsabilità che non può portare al fatto che questa giunta si deve dimettere.